Sì ragazzi sono il piccolo Ruby, sono qui per parlarvi di tre romanzi di Philip Roth, tre romanzi che mi sono piaciuti, so che Ruby che parla di Roth è come vedere, che ne so, una pornostar che parla di virginità, lo so benissimo, però succede anche questo sotto il sole. Vi voglio recensire questi tre romanzi perché voglio concentrarvi, voglio essere breve e circonciso, ma comunque darvi un'idea di che cosa parli di questi romanzi, di che cosa comunque fa Roth. Ovviamente di Roth io continuerò a parlarne finché non vi stuferete e inizierei subito con l'animale morente in questa copertina dove c'è una tizia seminuda. La copertina è molto significativa se leggete il romanzo, soprattutto verso la fine, ovviamente io non posso spiegarlo per non fare spoiler, ma di che cosa parla questo romanzo? Questo romanzo parla di vita, parla di morte, è un romanzo che parla di vecchiaia, è un romanzo che parla di insicurezze, è un romanzo che parla anche di lasciare il proprio paese e sentirsi inadatti in un altro contesto. Abbiamo David che si innamora di questa ragazza consuela cubana di 34 anni e Roth attraverso appunto questa storia riesce in qualche modo a dare dei spunti di riflessione Su che cosa voglia dire il rapporto con una ragazza più giovane, sulla vita, sul fatto che lui comunque si senta inadatto, insicuro, di non essere all'altezza, di non reggere il confronto magari con una persona che ha meno anni di lui E nella seconda parte del romanzo Roth si concentra molto sulla vita e sulla morte e questo secondo me è qualcosa di veramente straordinario Io non voglio farvi spoiler perché comunque sono 118 pagine, scusate, ma è un libro che va assolutamente letto E Roth affronta anche la tematica insomma del lasciare il proprio paese, lei vive comunque in America, si sente in qualche modo inadatta, sente il richiamo in qualche modo della sua terra Ma in quel momento ci sono delle problematiche e non può vivere, c'è Fidel Castro insomma persona molto importante della storia cubana Ed è un romanzo molto intenso, molto profondo, è un romanzo che mi ha straziato, io sono arrivato alla fine di questo romanzo che ho veramente straziato Diciamo che ha un finale aperto e a me questa cosa piace perché comunque il finale può essere aperto e da modo e maniera al lettore di immaginare che cosa avvenga dopo Da modo e maniera di immaginare magari un proprio finale E devo dire che affrontare una storia così insomma di David e Consuela in 118 pagine secondo me non è facile perché comunque questi spunti di impressione potevano essere approfonditi Però Roth in poche parole, in poche frasi, in pochi paragrafi riesce a farti riflettere, secondo me è una cosa veramente straordinaria Se volete un consiglio partite da questo con Philip Roth perché secondo me ne vale veramente la pena Il secondo romanzo di cui voglio parlarvi è Zuckerman scatenato Eccolo qui la copertina se non mi metti in ombra Abbiamo Nathan Zuckerman che è uno scrittore, raggiunge fama e successo attraverso la pubblicazione di un suo romanzo E però questo successo da una parte è vero che gli ha dato fama e soldi ma dall'altro insomma avrà delle problematiche su quello che riguardano gli affetti E quindi vedremo come Zuckerman affronta il rapporto con la moglie e come affronta il rapporto con i familiari Il romanzo che ha scritto è stato un romanzo insomma molto discusso C'è chi l'ha amato, c'è chi l'ha odiato e non si riesce a capire dove sia il confine tra realtà e fantasia Se questo romanzo effettivamente prende spunto dalla vita e dalla condizione di Zuckerman Ossia qualcosa di puramente inventato Ovviamente Roth non ce lo dirà mai Cioè attraverso le parole di Zuckerman noi non sentiremo mai Si è vero, è inventato, si è vero, io ho vissuto quello che Quindi diciamo che il punto focale del romanzo è proprio quello Questo romanzo mi è piaciuto veramente tanto perché dà un'immagine un po' diversa di quella che è lo scrittore Ora io non so voi che immagine abbiate dello scrittore Però è comunque ben lontana da quella di un divo di Hollywood Come il caro Zuckerman mi ne ha rappresentato In quanto lui è una persona che va sui giornali di gossip Che come fa un passo insomma Oh mio dio Zuckerman è andato lì, ha fatto, ha detto di qua di là E proprio questo fatto comprometterà insomma il rapporto con la moglie E insomma questa visione di Zuckerman che più che essere uno scrittore solitario Che si insomma si rintana nel suo privato per cercare in qualche modo l'ispirazione E trovare il giusto modo di scrivere qualcosa di sensato e decente È una persona invece molto ben in vista E questa cosa insomma mi ha stupito tantissimo E mi ha stupito anche il fatto che Zuckerman nonostante abbia raggiunto questo successo Questa fama rimanga sempre una persona umile Tant'è che all'inizio le persone si stupiscono del fatto che lui prenda un autobus Si stupiscono del fatto che una persona che abbia guadagnato così tanti soldi Possa in uno sprazzo di follia prendere l'autobus E insomma questa cosa ci fa capire che insomma Che l'umiltà è in qualche modo importante Il finale lascia molto spiazzati Ma secondo me il finale è abbastanza coerente con tutto quello che si è letto Ripeto Non è un romanzo che voi potete leggere velocemente È un romanzo che comunque va capito, va digerito È un romanzo che comunque va diciamo così scantona E parla anche di altre cose insomma Però devo dire che il finale è sorprendente E mi ha dato anche modo e maniera Anche di riflettere Di riflettere su cosa sia successo Di riflettere sui affetti familiari e quant'altro E ho trovato veramente un romanzo molto molto geniale Molto molto interessante Che Zuckerman sia in qualche modo un alter ego Del caro Philip Roth Che in qualche modo all'interno di questo romanzo ci sia Un qualcosa legato al suo vissuto reale Quindi quanto di Roth c'è in questo romanzo Quanto di Zuckerman c'è in Roth e di Roth in Zuckerman Secondo me questa domanda non avrà mai risposta Secondo me Per il semplice fatto che Roth è molto pragmatico È molto enigmatico Dice e non dice Cioè io uso i termini e non sanno manco cosa vuol dire Vabbè comunque È molto enigmatico su questa cosa Però sono convinto che ci sia una parte Di Philip Roth in questo romanzo Che sia proprio una sua costola Ed è stato veramente un romanzo eccezionale È stato un romanzo geniale È stato un romanzo che mi è piaciuto veramente tanto È stato un romanzo abbastanza sorprendente Sotto tanti punti di vista E niente Il finale vi sorprenderà Adesso arriviamo al terzo libro Che è Inganno Questo consta di 166 pagine E devo... eccolo qui Io l'ho usato come primo approccio Però non ve lo consiglierei Anche perché non si riesce bene a capire Il mondo di Roth Diciamo così Per quale motivo? Per il semplice fatto che Abbiamo un dialogo Tra due persone Tra uno scrittore e la sua amante Quindi il romanzo è fatto di dialoghi Il romanzo è Insomma Non abbiamo tutta una serie di descrizioni Di come sono incontrati Di come sono incontrati Ma noi giudichiamo I due protagonisti Sulla base di quello che dicono E non delle azioni Che svolgono Cioè Se noi avessimo avuto Una descrizione Di come si erano incontrati Cosa avevano fatto di qua di là Potevamo giudicare le azioni Ma La particolazione del romanzo Sta proprio nel giudicare O comunque Farsi una propria idea Dei protagonisti Nei momenti in cui Loro aprono bocca Quindi La cosa ci può piacere O non ci può piacere Devo dire che questa cosa È molto geniale Perché comunque C'è una persona Può dire qualcosa di giusto Ma anche qualcosa di sbagliato E quindi giudicare una persona Dal Quello che sta dicendo In quel momento È qualcosa di veramente Molto Molto Interessante È un romanzo Che parla anche Insomma Del fatto che lui Sta scrivendo un romanzo Delle ripercussioni Che avrà su questo romanzo E fa anche una riflessione Insomma Molto interessante Sul matrimonio Sugli affetti E quant'altro Cosa che viene fatta Anche in Zucca e Mascatenato Però è molto velata Qui invece C'è una C'è un Interessante Spunto Che riguarda Appunto La vita coniugale Gli affetti E quant'altro Questi sono I tre libri Di Philip Roth Che io ho letto Sono Questi qui Ve li faccio rivedere Luce permettendo Che se ne va Quindi Ingano Zucca e Mascatenato E l'animale morente Se volete Un consiglio Parti da questo Perché È Quello più Toccante e profondo Senza nulla Togliere gli altri due Che mi sono piaciuti Fatemi sapere Se avete letto Roth Fatemi sapere Perché a voi piace Fatemi sapere Tante cose belle Vi saluto Vi mando un grosso bacio Ci vediamo al prossimo video Ciao